allora caffè meritato perché casa è completamente sistemata e ordinata da me lei che fa mi mette il sale nel caffè ma scusatemi ragazzi mi può andare ancora così senza scritto sale e zucchero nel 2024 amore no ok ora te lo metto basta chiede non ce la posso fare no 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 ciao